Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di aver accettato il nostro invito. Come sempre vi chiedo di presentarvi e di fare una domanda alla volta. Iniziamo con Gianni Balzarini di Mediaset. Buongiorno Andrea, Gianni Balzarini di Mediaset. Volevo chiederti, venendo alla stretta attualità, partendo dalla stretta attualità, a prescindere da quello che potrebbe succedere oggi, esito di tamponi o quant'altro, qual è il vostro stato d'animo e se c'è il rischio, qualora ci giochi questa partita, di assistere a una gara fortemente condizionata da quello che sta succedendo per il Covid-19? Non penso ci sia il rischio di non giocare. È uscito un comunicato della Lega ieri o l'altro ieri che ha dato delle regole ben precise, quindi non penso ci siano problemi per non giocare la partita. Ma no, il nostro stato d'animo è quello di aver preparato la partita come tutte le altre squadre, quindi saremo pronti domani sera per giocarla. Non ci ha influenzato minimamente questa cosa. Buongiorno Giovanni Guardanasca, eSport, due domande se possibile. La prima, in riferimento a quanto abbiamo visto a Roma, a cosa è servito quello per poi fare le scelte in riferimento alla partita con il Napoli? Cioè, lei stessa aveva detto che quegli esperimenti forse non hanno funzionato, la ricerca di qualità più equilibrio come sta andando? Ma no, non ho detto che quegli esperimenti non hanno funzionato, ho detto che non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori in certe posizioni, però abbiamo provato un nostro tipo di gioco per giocare contro la Roma e magari ne proveremo un altro per giocare contro il Napoli. Però gli esperimenti andavano fatti, bene o male, bisognava provarli in partita, quindi sarà lo stesso domani sera. Un'altra domanda invece riguarda Di Bala, come sta? Probabilmente senza l'espulsione di Rabiot avrebbe giocato qualche minuto nel finale, immagino io, poi quello ha fatto saltare un po' i piani, però le chiedo, visto che non ha ancora minuti nelle gambe, se è comunque pronto per partire titolare oppure se è meglio andare per gradi? Ma come ti ho detto l'altra volta, veniva da due mesi di totale assenza proprio anche dai campi di allenamento, e quindi un periodo di riadattamento ci stava, aveva un'altra settimana di lavoro in più nelle gambe, sì forse a Roma sarebbe potuto entrare, adesso vediamo domani se c'è la possibilità di farlo giocare dall'inizio o partita in corso. Buongiorno, Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, anche io due domande. La prima, appunto, a proposito di esperimenti, abbiamo visto Quadrado a sinistra, volevo capire se è una cosa che si può riproporre secondo te oppure magari possiamo rivedere Frabotta da quella parte? Sì, c'è la possibilità che giochi Quadrado a sinistra oppure ritorno di Frabotta, sono due potenziali titolari, decideremo poi domani mattina nel pre-gara, comunque sono gli unici due giocatori che possono giocare in quella posizione. La seconda più legata alla partita di domani, dove ti ritroverai Gattuso dall'altra parte in panchina, lui ti ha detto, insomma, adesso sono affari tuoi, ti ha mandato a dire che messaggio vuoi mandare a lui invece? Ma no, sono affari miei alla Juve come sono affari suoi al Napoli, siamo allenatori, quindi ognuno ha i propri problemi, però è un lavoro bellissimo, mi prendo anche i problemi, se no non avrei scelto di fare questo lavoro. Buongiorno, mister, buon signore Corrierello Sport, le chiedo di Arthur, se può essere davvero l'occasione per vederlo per la prima volta titolare e come l'ha visto in settimana, grazie. Ma si è allenato bene, anche lui viene adesso da allenamenti più continui, in un ambiente nuovo, in un campionato diverso, un modo di allenarsi completamente diverso da quello che ha fatto negli ultimi anni a Barcellona. Sì, c'è la possibilità che giochi dall'inizio, perché abbiamo anche un giocatore squalificato e quindi nelle rotazioni di centro campo può esserci la possibilità che parta dall'inizio. Emanuele Gambe, Repubblica, buongiorno. Anch'io due domande se è possibile. La prima vorrei chiederti cosa ti ha convinto, che quindi pensi che vada riproposto, di quello che hai provato a Roma e cosa invece non ti ha soddisfatto e quindi magari pensi che per il momento vada accantonato. Ma no, di quello che abbiamo provato a Roma magari l'impostazione tattica più o meno potrebbe rimanere la stessa, magari con qualche cambio di giocatore, però come avevo detto dopo la partita non abbiamo interpretato bene gli spazi da occupare soprattutto in fase offensiva e magari mettere un giocatore un po' più di ruolo in fase offensiva su largo a destra. Quindi magari la posizione che Koluseschi non aveva mai ricoperto durante l'inizio di stagione, ma l'aveva ricoperta poco anche nel Parma, lo faceva soprattutto quando gioca nella nazionale svedese. Quindi magari quella poteva essere una soluzione un po' azzardata contro la Roma che però si potrebbe anche riproporre un po' in futuro, solo bisogno di provare. L'altra dopo due giornate in molti stanno cominciando a dire che la Juve non è più la squadra favorita in assoluto, che le altre sono molto vicine, alcune forse anche davanti a voi. Voglio sapere se questo sotto sotto ti dà un pochino di soddisfazione perché magari ti alleggerisce un po'. A me non mi cambia niente, io ho bisogno solo di lavorare con i giocatori, con la squadra, poi che sia uno favorito, no, no, non mi cambia niente. Fortunatamente ho giocato per vent'anni e ne ho sentite di tutti i colori, quindi queste cose non mi cambiano sinceramente l'umore. Buongiorno, RomeaGressigol.com. Le chiedo, mister, se in questi giorni finali del mercato si aspetta qualcosa e se per qualcosa magari potenzialmente chiesa. Grazie. Ma stiamo parlando con la società, magari faremo qualcosa oppure no, però c'è Fabio che se ne occupa e quindi se arriverà qualcuno lo vedremo solo lunedì sera alla fine del mercato. Ciao Andrea, Valentin Polizzi, Canal+. Su Cristiano che è la prima volta che comincia così bene una stagione della Juve, ha fatto tre gol su cinque della Juve, e volevo sapere se è casuale. Soprattutto cosa hai scoperto di lui in questo mese, mezzo, due mesi che lo alleni? Mi ha scoperto che è un grande lavoratore, è sempre il primo e l'ultimo ad abbandonare il campo, quindi ha grande entusiasmo e lo si vede anche durante le partite. Non so se è un caso se ha iniziato così bene la stagione, però l'importante è che la finisca così, facendo uno o due gol a partita. Per noi è fondamentale, il suo spirito l'ha dimostrato anche quando siamo rimasti in dieci domenica, che è rincorso fino all'ultimo minuto. Questo deve essere di grande esempio poi anche per tutti gli altri. Ciao, Gianluca Dino da Stampa. Mi facevo due domande anch'io. Una è legata ai gironi di Champions. La tua valutazione è anche come si incastrano nel calendario, visto che è tutto così compresso. Ma un girone affascinante, perché giocare con il Barcellona è sempre bello, alza il livello di responsabilità, di attenzione anche nei giocatori. E come calendario, sapevamo che è un calendario fitto, però già iniziare la prima partita a Kiev che non fa ancora così tanto freddo è una cosa che va molto bene a noi, perché è un conto andare adesso e un conto magari andare alla fine di dicembre quando ritrovi il campo ghiacciato o con la neve. Quindi siamo contenti del girone, è un girone che ci piace, che ci affascina e che non vediamo l'ora di iniziare. Invece la seconda domanda è legata al Napoli. Gattuso, appunto, diciamo, prima siete più che amici. Ma cosa ti preoccupa? E invece, secondo te, qual può essere il punto di forza dagli Juventus nella partita di domani sera? Ma sono due squadre forti. Il Napoli l'ha dimostrato che con l'arrivo di Gattuso ha cambiato la mentalità. Se guardiamo da quando è arrivato lui, è arrivato tipo terzo in classifica, grande possesso palla, grandi occasioni offensive. E quindi è una squadra forte che è già quasi un anno che lavorano insieme. Quindi credo che questo sia il loro punto di forza. Però noi non siamo da meno. Abbiamo giocatori forti, squadra compatta, che sa quello che deve fare tutti i giorni e speriamo che lo faccia anche domani sera. Buongiorno, Filippo Cornacchi, Tutto Sport. Anche io due domande. La prima, volevo chiederti, visto quello che è successo questa settimana, hai la sensazione che ci sia qualche tuo giocatore può avere paura di giocare in condizioni così e le tue saranno solo scelte tecniche o in base a quello che è successo magari dovrai valutare anche altro, lo stato emotivo di alcuni giocatori e poi te ne faccio un'altra dopo. Scusa, paura di cosa? Dopo il caso Genoa, siccome il Napoli era la squadra che aveva giocato con il Genoa, che magari qualche giocatore negli ultimi giorni abbia paura di giocare questo tipo di partite. Ma ormai al giorno d'oggi bisogna avere paura ad andare in giro, quindi non bisogna avere paura solo a giocare le partite perché lo vuoi prendere ovunque tu vada. Non devi avere paura di giocare perché devi pensare alla partita. Poi se succede, può succedere anche la Juventus come è successo al Genoa. E poi l'altra domanda che ti volevo fare è visto che ti conosci così bene con Gattuso, vi conoscete così bene, siete proprio amici, avrai più vantaggi tu con Gattuso o Gattuso nei tuoi confronti? Ma un conto era giocare a calcio e un conto essere allenatori. Eravamo due giocatori diversi sul campo e lo siamo magari anche come allenatori. Non ci siamo ancora affrontati, però ognuno sicuramente avrà preparato bene la partita e cercherà di mettere in difficoltà l'un l'altro. Quindi non credo che uno o l'altro abbia dei vantaggi o dei svantaggi. Mario Moricone, Rai, buongiorno. Volevo chiedere se Morata avrà ancora una possibilità di scendere in campo dal primo minuto e se è un giocatore funzionale le tue esigenze, quello che è il tuo calcio. Sì, sì, è un giocatore funzionale, l'abbiamo comprato apposta. Credo che dopo una partita non debba più avere delle altre possibilità. Sono solo due giornate di campionato e quindi la stagione è ancora lunga. Non penso che abbia fatto così male come è stato detto. È arrivato mercoledì, ha fatto un lavoro a parte anche per il Covid e quindi non ha avuto neanche così tanto tempo per inserirsi nei meccanismi. L'abbiamo messo dentro perché pensavamo che avesse delle caratteristiche ideali per giocare contro la Roma. Adesso vediamo domani comunque a disposizione. Sappiamo e pensiamo che sia un giocatore forte. Scusate, le ultime due. Gasparotto e Baliccia a chiudere, grazie. Perfetto, buongiorno. Gasparotto, Corriere della Sera. È stata la settimana in cui si è raccontato molto del Pirlo, Gattuso, tutti gli scherzi. Anche se di scherzi poi alla fine ne sono stati raccontati pochi. Quindi la prima domanda è proprio aspettando lo scherzo di domani sera qual è lo scherzo che ti è venuto meglio nei suoi confronti o nel gruppo anni fa. La seconda invece era legata proprio alla partita di domani e alla rosa cioè sugli esterni, in particolare in basso se la rosa secondo te in questo momento va bene così oppure se c'è qualche lacuna. Grazie. Ma lo scherzo più bello sarebbe quello di vincere domani sera. Quindi non ne ho pensati altri non me ne ho in mente prima di questa partita. La cosa più divertente sarebbe vincere e poi parlarne dopo la partita. Per quanto riguarda la rosa sì, io sono contento della rosa che ho a disposizione però come ho detto prima c'è Fabio che lavora per questo e finché è aperto il mercato tutto può succedere. Buongiorno mister, Nicola Balice attorno a Chedira, De Sciglie e Douglas Costa anche all'interno del gruppo stesso che non lo possono avere. Grazie. Ma non è cambiato niente sono giocatori a disposizione come ho detto il mercato è aperto fino a lunedì e poi vedremo però si stanno allenando come tutti gli altri e sono a disposizione per giocare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.